Offrire la propria vita in dono, ungendo i fratelli con la tenerezza e la misericordia di Dio, essere veri amici dei preti e mettersi in cammino andando sempre avanti. Così il Papa ha descritto la missione del Serra International, l'associazione laica di sostegno alle vocazioni sacerdotali e della vita consacrata ricevuti oggi in Vaticano. Francesco si è soffermato a lungo sulla parola amico, spesso logorata e abusata nella società virtuale, mentre nell'ottica di Cristo essa conduce all'incontro, a coinvolgerci nella vita dell'altro fino al dono di sé. L'amico ha spiegato il pontefice, è misericordioso, è libero dai pregiudizi, è pronto ad aiutare e a rialzare. Desidera il mio bene e così i serrani, con senso di fede, fedeltà alla preghiera ed impegno apostolico, sostengono i sacerdoti, condividendo lo stupore della chiamata, le gioie e le stanchezze e diventando luoghi di ristoro e conforto. Altra parola che contraddistingue i membri del Serra Club è l'andare avanti sempre, sempre adelante, come il tema del loro 75esimo convegno, uscendo da se stessi, camminando senza timore nei solchi della vita quotidiana, per scoprire le sorprendenti iniziative di Dio che sopraggiungono quando si ha il coraggio di osare, cambiare rotta e uscire dagli schemi. Ho paura dei cristiani che non camminano e si rinchiudono nella propria nicchia. È meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo, ma confidando sempre nella misericordia di Dio che essere cristiani da museo, che temono i cambiamenti e che, ricevuto un carisma o una vocazione, invece di porsi al servizio dell'eterna novità del Vangelo, difendono se stessi e i propri ruoli. Del resto, la vocazione è essere chiamati a un altro, cioè non possedersi più, uscire da se stessi e mettersi al servizio di un progetto più grande. Con umiltà diventiamo allora collaboratori della vigna del Signore, rinunciando ad ogni spirito di possesso e di vanagloria.